È bello amare il calcio. Liga Serie A e Team presentano la Serie A Team. Quando mi ha detto di giocare, ero lì. Quando mi ha detto di giocare, ero lì. Quando mi ha detto di giocare, ero lì. Non sento la pressione, perché ho capito che non avevo nulla per perdere. Io ho cercato di mostrare il mio valore. Io ho cercato di mostrare quello che ero capabile. Ho lavorato l'attività tutta la settimana, quindi ho avuto l'occasione, per sentire l'atmosfera del derby. La grande gioia, la grande serenità. Nel momento, Antonio ha avuto la possibilità di brillare. E' da' la parte. Icarte, e' da' la parte. E' da' la parte. Antonio Donnarumma. Viglia. Now, Suso, la corner. E' da' la crossbar. Perisic, decide to have a shot. Donnarumma spills it, The AC Milan keeper kept it goalless, forcing the game into extra time. Now Suso. Entr under attack again. The shot in! E' da' goal, from Coutrone! The Rossoneri revelation, Patrick Cutrone, bagged the winner as Gennaro Gattuso's men marched on to the semifinals of the competition. Juventus also faced their local rivals in their quarterfinal tie. This ball, a wide Asamoah coming back infield, edge the area, Dybala deflects down, and stroked home by Douglas Costa. The ball forward, Niang on the chase here though, Niang off the post. Douglas Costa into the box, wonderful control by Douglas Costa, Costa brought back Dybala. It's always special to play in the derby, and it's great to be a part of it. Since joining the club, I've been lucky enough to always end up on the winning side. I am happy above all for the fans, and I hope we can keep our positive trend in the derby for a long time to come. Manzukić is in here, Manzukić! Leves the ball, over. Juventus claimed City bragging rights over Torino, and edged another step closer towards retaining their crown as cup holders. Grazie a tutti.